Ma noi stiamo morendo di debiti, stiamo morendo di debiti, non ne usciamo più. Abbiamo due cose, 2.000 miliardi, ci costano 100 miliardi all'anno di interessi passivi. Ma dove vai? E questi cialtroni vanno in televisione a mentire, 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 non fa altro che mentire, Dio mio. Mentire, dire che alla fine 2014 c'è la luce fuori dal tunnel, alla fine 2014 inizia il 2015. E nel 2015 noi abbiamo già firmato un contratto capestro che si chiama fiscal compact e saremo obbligati a tagliare 50 miliardi di euro all'anno per 20 anni. Ti devi scendere tutto, altro che spiaggia, ti devi scendere la vita di generazioni qua e basta. Chi sta il compa? Andiamo lì, chi ha firmato? Andiamo lì, andiamo lì, andiamo lì con la Spagna, andiamo lì con la Grecia, andiamo lì con il Portogallo, andiamo lì con l'Irlanda, andiamo lì con la Francia che è messa a peggio di noi. E diciamo, volete fare una cosa perfetta? Bene, il debito ce lo spagniamo tutti o ci fate un euro svalutato per noi, perché non stiamo... Allora, svalutiamo del 20% l'euro a questi sette paesi e diventiamo competitivi con la Germania, li facciamo un culo così! Allora, svalutiamo!